Londra, 1835. Margaret è una giovane donna che incontra l'amore di Alan. La passione naturalmente non può tacere. Tra loro però il padre di lui ostacola tutto. Alan vuole sposare Margaret, ma i due sono costretti alla fuga. L'avventura è appena iniziata. Si rifugiano in Prussia, ma la soluzione non è così semplice. I due destini si mescolano attraverso intrighi, passione, ostacoli ed una storia d'amore ricca di continui colpi di scena. Un viaggio nel destino di Francesca Lupone, Masciulli Edizioni, disponibile online e sul sito www.masciulliedizioni.com